Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura afferma che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, l'Evangelo è potente a salvare chi crede in esso, sia che sia un giudeo, sia che sia un gentile. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, quindi chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, perché l'uomo senza Dio è un peccatore, schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi ha bisogno di essere affrancato dal peccato. Questa salvezza dal peccato può arrivare solamente, ed arriva solamente, credendo nell'Evangelo. E questo perché nell'Evangelo è rivelata una giustizia particolare. è la giustizia di Dio, la giustizia che viene da Dio. Ecco, nell'Evangelo è rivelata questa giustizia, la giustizia di Dio, è rivelata da fede a fede. Questa significa che è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine. Dunque, infatti è scritto che il giusto vivrà per fede. Queste sono parole che sono citate, perché ho letto dall'Epistola ai Romani, sono citate dal profeta Abba Kuk, uno dei profeti antichi tramite cui Dio parlò anticamente. Ebbene, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente per questa ragione, perché nell'Evangelo è rivelata questa giustizia, la giustizia di Dio basata sulla fede. Il che significa che nell'Evangelo è rivelata la giustizia che Dio imputa a colui che crede e gliela imputa appunto senza opere. Perché? Perché chi crede nell'Evangelo, la sua fede gli viene messa in conto di giustizia. Questo dovete tenerlo presente. Credendo nell'Evangelo, la vostra fede vi sarà messa in conto di giustizia, che significa che sarete giustificati, resi giusti. Quindi, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene salvato dai suoi peccati, ma viene anche giustificato, cioè reso giusto. Dunque, è di fondamentale importanza credere nell'Evangelo ed è per questo che io vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Ma naturalmente dovete sapere cos'è l'Evangelo per credere in esso, perché vi ho detto appunto, vi ho esortato a credere nell'Evangelo, ma è giusto che voi sappiate cos'è l'Evangelo. Allora l'Evangelo è la buona novella. Quale buona novella? La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparva i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella nella quale appunto dovete credere per essere salvati e per essere giustificati. È l'Evangelo di Cristo, perché appunto concerne Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi la salvezza non si può ottenere all'infuori dell'Evangelo. È impossibile. Non potete essere salvati credendo nel Corano, non potete essere salvati credendo negli scritti di Buddha o negli scritti della Bhagavad Gita o non potete credere, non potete essere salvati credendo nel libro di Mormon, mi riferiscono quindi naturalmente a quel libro che è considerato sacro dai Mormoni e così via. Cioè la salvezza si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. La giustificazione si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. Quindi siete stati avvertiti. Non potete dire ah ma nessuno me l'aveva detto. No no, io ve l'ho detto e io per questo che appunto avendo il desiderio che voi siate salvati, che voi siate giustificati, vi ho annunziato l'Evangelo e vi ho anche spiegato in che cosa appunto consiste diciamo la salvezza che appunto produce o che si ottiene mediante la fede dell'Evangelo come anche vi ho spiegato in che cosa consiste la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo. Considerate dunque questo che non potete essere salvati per le vostre buone opere, non potete essere giustificati per opere buone che voi fate, no, perché sia la salvezza dal peccato, sia la giustificazione, sono per grazia mediante la fede. Non sono in virtù d'opere, non si possono ottenere per opere né la salvezza né meno la giustificazione, affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Quindi sapendo questo non vi rimane altro da fare che ravvedervi e credere nell'Evangelo. Io spero che lo facciate perché altrimenti perirete, andrete in perdizione. Cosa significa? Che morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. Sì, l'inferno esiste, è un luogo di tormento dove arde il fuoco e dove appunto vanno coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo. A dimostrazione appunto che la salvezza si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. La giustificazione si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. Ecco perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prima di ascendere al Padre, prima di ascendere alla destra del Padre, quando parli agli undici, agli undici apostoli, tra le altre cose, gli disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi io vi ho annunziato la salvezza mediante la fede nell'Evangelo, come anche la giustificazione mediante la fede nell'Evangelo, ma badate bene perché io vi avverto dalla condanna che appunto, diciamo, subirete se rifiuterete di credere nell'Evangelo. L'Evangelo non è un messaggio come tanti altri, no. L'Evangelo è un messaggio unico, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Dunque, chi non avrà creduto sarà condannato. Perciò ti voglio dire con ogni franchezza, se tu che mi stai ascoltando non crederai nell'Evangelo che ti ho annunziato, che è l'Evangelo di Cristo Gesù, sarai condannato. Te ne andrai all'inferno quando morirei. È certa questa cosa, come è certa la salvezza e la giustificazione. Per coloro che credono nell'Evangelo così è certa, sicura la condanna per coloro che non credono nell'Evangelo. Quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio. Il Signore avrà misericordia di voi. Il Signore vi salverà, il Signore vi perdonerà, il Signore vi giustificherà, il Signore vi darà la vita eterna. Sì, perché anche la vita eterna si ottiene credendo nell'Evangelo. Gesù disse chi crede ha vita eterna e dunque credendo appunto nell'Evangelo scamperete, scamperete all'inferno. L'unica maniera per scampare alle fiamme dell'inferno è appunto quello di credere nell'Evangelo. Io vi ho avvertiti che ho orecchi da udire. Oda.